Massimo Pica Grazie, benvenuti, mi chiamo Massimo Pica, sono un monologhista fare il monologhista non mi nascondo che crea sempre dei problemi perché nella gestione del carità non perché viene continuamente invitato serate, ospitate, mesche, presentazioni infatti sono riduce ora dalla serata di Capodanno quindi vi dico che, insomma, però modestamente riesco a fare le mie serate pensate, ultimamente ho fatto il mio tour sono stato al Festival Internazionale del Teatro di Ospitaletto poi sono stato alla Sagra dell'Anziano di Ospitaletto e domani sarò ospite presso la Proloco di Ospitaletto e vi dico che questa è una cosa che mi orgoglisce me, Massimo Pica ma soprattutto mi orgoglisce il sindaco di Ospitaletto Giancarlo Pica perché quando uno ce l'ha fatto i propri vecchi è sempre bello non voglio dire di essere l'unico per carità perché ce ne sono abbiato io ad esempio ho comprato un libro di una ragazza che come me lei ce l'ha fatta da sola e nel libro lei spiega il segreto del suo successo di come ce l'ha fatta lei si chiama Nicole Minetti e il libro si intitola Grazie al Cazzo e vi dico che ovviamente povera Nicole, no? sempre che ce l'abbiamo tutti con lei pensate, è uscito il libro un giorno subito a Pusti di Plagio perché mi pare che Marrazzo abbia fatto il libro con lo stesso titolo però sono questioni ovviamente fare un biologista Marrazzo ve lo ricordate, sì da noi si usa anche la poelka per fare queste battute qua però più o meno la tematica è quella lì comunque con i mesi ragazzi sono però comunque è un'idea cosa stavo dicendo? per provare a fare Satra monologicamente la prima cosa che serve è un monologista che prova a fare delle battute un testo però serve anche un pubblico preparato conto che legge che si informa vabbè dai la facciamo lo stesso non preoccupatevi comunque il discorso qua è per fare questa forma d'arte che si chiama Stand Up io mi sono informato questa forma d'arte nasce in Inghilterra e già questa cosa mi sta un po' fu qua perché sembra che gli inglesi abbiano inventato tutto loro il calcio l'hanno inventato loro e il tennis l'hanno inventato loro e il regno e tutto quanto ci hanno un po' fatto affetto anche nella... io qui sono anche informato nella musica siamo obiettivi agli inglesi seguitori Rolling Stones Beatles Molly's Day Aspen David Bowen Pink Floyd Don't John Queen Music Boy Mind The Pasquale Chi resta? dai siamo sempre comunque sostanzialmente per provare a fare un'orologista serve un'idea per prima cosa io sono italiano qual è il modo migliore per avere un'idea in Italia? rubata sembra scontato però si dice ispirarsi infatti io mi sono ispirato a un comico americano che faceva un bellissimo pezzo sui libri sulle monografie che escono in libreria e ho detto boh lo faccio con i libri che escono da noi io mi sono cominciato a informarmi a leggere a comprare sono stato un po' dove tutti gli italiani si informano legano informano la propria cultura sarete stati in autocrine anche voi una volta in vita vostra però dico ecco ho detto lo faccio solo che l'americano che libri usava? di chi? Frank Sinatra Marilyn Steve Jobs i libri che escono da noi? di Fissone Platinet Alfonso Signorini giuro sono questi qua l'avete mai visto Carlo Ancelotti e poi i titoli sono meravigliosi no? perché sono delle opere d'arte allora il libro di Carlo Ancelotti si intitola Preferisco la Coppa Valeria Marini Valeria Marini l'amore di Tiega è uscito è uscito il libro di Fabrizio Corona tra l'altro è uscito due anni prima dell'autore veramente un avvocato migliore ma lo so comunque ci sono tutti questi libri qua ti anche Paolo Brosio ho visto la Madonna se ti fai di coca vai buttare la Madonna la vedo io ci riesco pure io Raffaele Sollecito pure lui ma i libri i titoli sono meravigliosi perché il titolo del libro di Raffaele Sollecito è un capolavoro due passi fuori dalla morte si intitola così dove lui prende il libro e spiega di come due ragazzi ritti bianchi abbiano fatto andare in carcere uno nero per concorso in omicidio cioè questo qui è dentro per concorso cioè a mano e Raffaele hanno indetto un bando e questo ha vinto ed è andato bene comunque ce ne sono tantissimi scusate no funziona ce ne sono tantissimi ovviamente non voglio dire che ci siano solo libri frivoli no ci sono anche libri di gente che ha fatto la storia della delizione e che tutti i giorni lo fa che tutti i pomeriggi ci riempie con il suo sorriso Barbara D'Urso addirittura lei che libri ne ha fatti due il primo è se ci credi accade ma se la dare accade prima e poi c'è il libro suo più famoso è chi si legge in faccia che tu pensi a Barbara D'Urso quello che puoi leggere in faccia io che sono un po' malato di serie tv ho visto CSI insomma la prima cosa che penso illumino o no per leggere qualcosa in faccia a Barbara D'Urso questa te la lascio a chi ha visto però non voglio dire che ci siano solo libri di questo tipo ci sono libri anche dei personaggi che hanno fatto la cultura del novecento è uscito il libro di Walter Veltron intellettuali del novecento Veltron il libro di Veltroni si intitola La mia sinistra tu sei lì con il libro di Veltroni tu parli sinistra ti guardi intorno e dici ci sarà anche il libro di Veltroni che parli figa perché alla fine la conoscenza è quella però i libri ce ne sono tanti io ho comprato il libro un po' per tutto ad esempio chi non ha mai fatto un viaggio per fare un viaggio non si è comprato un libro tutti la guida la guida di viaggio la prima cosa che tipo ad esempio io l'ho comprata quando sono stato in India appena apri il libro ti dice che questo paese che sta a 6.000 km di libro ti dice ne è consigliato andare in aeree e già capisci che hai speso bene i soldi però insomma io sono stato in India e dico solo un'aggressione a mano armata un'intossicazione alimentare nel sito di bagagli è fortuna che sono rimasto a malpensa solo due ore perché comunque i libri lo meglio ne sono tanti noi ad esempio ci sono i libri che ti spiegano come conquistare una donna libri che ti spiegano io penso che imparare a conquistare una donna sul libro è come quando da piccoli imparavamo a scopare sul posto al market cioè alla fine più o meno la stessa cosa la stessa cosa loro ti insegnano che la donna ti parla con un gesto al primo appuntamento ti comunica una cosa con un segno del dono se tu sei nel primo appuntamento e lei si mette così no ma non ci siamo però sappiamo tutti che se vedi fa così ci sta per sempre non arrivi lì si nervoso e rovinassi mi siede questa e inizio a fare così che faccio? non lo so questa era una ragazza carina non era una ragazza tra l'altro ero una barista lavorava in un bar anche malfamato il bar era così malfamato che per alzare il livello dell'ambiente la hanno messo i video poker giusto? guarda di capire comunque lei faceva la barista io sono andato lì aveva noi adesso dirò questo sperando che non la capisca qualcuno quindi se capite questa via via allora lei fa vive in questo lavoro in questo bar dove fanno i cocktail con i nomi degli attori no? e ci sono c'è il cocktail De Niro c'è il cocktail dal pacino attivamente il cocktail Bill Cosby non ha tolto però per un motivo questo non ha capito nessuno però non importa signora lei la Bill Cosby lo sapete che l'ho fatto no? vabbè faccio a fare persone comunque alla fine provo a uscirci vado tutte le sere e alla fine dopo due tre quattro tentativi tre cocktail il moncello il caffè corretto la birra la prima alla fine ce l'ho fatto sono diventato alcolizzato e per uscire dal tunnel dell'acqua ho dovuto usare un libro che mi spiegava sì ho dovuto usare un libro perché mi avevano consigliato di andare in un centro per alcolisti anonimi però secondo me dove sono stato io non ero molto preparato e appena arrivato mi ha offerto il 20 sito benvenuto non ci sta come in sostanza lì invece sono tutti i tipi ma non è che solo noi scorniamo libri di questo livello anche in grattis la regina Elisabetta ha scritto un libro un tono se io ho letto solo il primo capitolo me l'hanno regalato dove lei spiega che dall'anno scorso la corona inglese ha detto sì alle notizie tra le persone dello stesso sesso che bello no? così adesso Carlo può sposare Camilla siamo siamo tutti contenti il mio discorso non è anche se non puoi venire alla conclusione che forse forse in Italia di libri ce ne sono un po' troppo il mio pensiero è questo cioè che è possibile che in Italia qualunque coglione può pubblicare un libro è un mio pensiero e oltre a questo pensiero ufomismi battute e racconti infatti potete trovarli nel mio libro che vorrei uscire e grazie Massimo Piccala grazie tutti i figli che sono stati a livello italiano a livello mondiale anche noi abbiamo chi le recensisce il nostro Morandazzo grazie praticamente io ho fatto una lunga ricerca ho scoperto solo un attimo ho scoperto un critico cinematografico che si chiama Gianni Morandazzo critico cinematografico verso l'Università di Torino terzo Dan e lui praticamente ha una particolarità perché riesce a spiegare a raccontare i film in tre righe film famosi quindi possiamo partire ci vuole un attimo di atmosfera ovviamente facciamo le serie Bambi un cacciatore di cervi uccide la mamma di Bambi in quanto cervo Bambi cresce solo il fatto che non ci sia mai stato Bambi due ci fa pensare che la stagione di caccia successiva sia stata affruttuosa la principessa Sissi l'imperatore d'Austria si innamora di Sissi quando si scopre che lei è minorenne lui la fa passare per la nipote dell'Arcinucca del Giglio 300 300 arroganti soldati spantani vanno in guerra 7 milioni di persiani muoiono tutti a 300 e ci mancherebbe altro non aprite quella porta dei giovani aprono quella porta e vengono sguardati eppure era scritto chiaramente The Ring se guardi una videocassetta muori in 7 giorni dagli a poco lo passa dalle fatiche A Cicco Cani aspetta il padrone in una stazione per 10 anni Trenitalia si scusa per il visaggio questa quando la dico ci voglio sempre quei 3 secondi gli intoccabili arrestano al Capone per evasione fiscale in America è reato ci vuole un po' Zorro in un paese di ciccioni senza baffi l'unico manco a quei baffi si mette una mascherina sugli occhi per non farsi riconoscere io sono leggenda resta 3 anni con un cane tutto bene resta 3 giorni con una donna muore l'esorcista bambina americana inizia a comitare addosso le persone i genitori per la sicurezza della piccola chiamano due prezzi i piccieli il miglio verde c'è uno che sputa mosche alla fine muore ci credo scusate ratatouille una pantecana diventa scelta di un vistorante paricino in Francia l'asle è più premissima gravity una donna viene mandata in orbita dallo spazio e se non riesce a parpiggiare nemmeno lì cioccolà cazzo cioccolà in un paesino dove non si scopa non si fuma e non si beve una signora apre una cioccolateria sarà un successo grazie a tutti grazie a tutti serbico l'unico poliziotto non corrotto in tutta New York è italiano pensa come stanno messi poi allora vi faccio il lato positivo qui bisogna che facciate calma il lato positivo due schizofrendici si iscrivono ad una gara di barbi tutti e quattro andranno a un finale troi troi dopo dieci anni di assentio i troiani troiani scoprono che il tallone di Achille di Achille è il tallone poi c'è adesso apre un'altra parete spesso viene accusato di fare gli spoiler quando si rivela il finale di un film purtroppo capita facendo una sintesi ad esempio point break storia di quattro surfisti chiamano la vita muoiono tutti però a volte lo spoiler è quasi impossibile non fare un esempio cronaca di una morte annunciata alla fine muore Diana la storia segreta di Lady T alla fine muore la passione di Cristo alla fine muore però poi ne lancio una così dopo la passione di Cristo quest'anno è uscito un film che si chiama Risorto è un film in 3D bene ok ombre rosse dobbiamo fidarci perché il bianco è lì ghost ghost certi fidanzati sono così fastidiosi che persino dopo morti non ti lasciano in pace la storia infinita è una palla ad ora non mangiare i minuti poi chiudo con due saghe la prima è la saga di Rocky riuscire a raccontare Rocky in 3D che è difficile però si può fare allora ci può vero Rocky 1 perde Rocky 2 vince Rocky 3 perde poi vince Rocky 4 vince fuori casa Rocky 5 ma chi l'ha visto dai Rocky Balboa se ne padriano pure l'ex è rotta il caso Crit Rocky allena il figlio di Apollo e ora vediamo se tutti i pesci verrà il gatto e chiudo con un'altra filmografia importante di quella di Garancioni il ciclone timido ragazzo toscano incontra avvenente ragazze dopo vari per i pezzi riesce a conquistarla fuochi d'artificio vedi sopra il pesce cavarato vedi sopra sopra il principe imperato vedi sopra sopra il paradiso vedi sopra 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 questo è chiudo con l'ultima questo è un libro che si chiama il morandato che potete trovare in tutte le edicole soprattutto nella mia borsa però chiudo con l'inside out nella mente delle persone vivono cinque emozioni un film che sovrastiva emozioni paschili di almeno tre e sottostiva quelle femminili di almeno sette minuti ok grazie grazie